buongiorno amici nexus lab sono alessandro bertola e qua davanti a voi avete due dispositivi dall'animo molto ma molto simile il nexus 5 e il moto x visto che l'estremo interesse verso il moto x che ci avete dimostrato abbiamo deciso da come da vostra richiesta di effettuare un video confronto tra questi due prodotti prodotti che potrebbero essere tranquillamente definiti come progettati dalla stessa azienda dato che motorola quando ha fatto il moto x era ancora nelle braccia di google anche se ci sono ovvie differenze soprattutto su strutturali e su due riguardanti due o tre funzioni allora andiamo a scoprire prima di tutto l'estetica estetica frontale molto simile purtroppo il nostro nexus 5 ha subito una botta qua in basso quindi vedrete questa piccola scheggiatura come potete vedere sono due smartphone con dimensioni molto diverse questo qua che vedete è il sensore del moto x io a vista non lo vedo ma so già attraverso l'obiettivo della videocamera che è presente nella videorecensione come potete vedere è molto più alto il nexus 5 ma larghezza praticamente quasi identica qualche millimetro parliamo infatti di un moto x con un'altezza di 129 una larghezza di 65 per 10,4 millimetri di spessore il nexus 5 invece è come detto più grande anche sensibilmente 137 millimetri di altezza 69 di altezza di larghezza scusate però molto ma molto più sottile 8,5 millimetri di spessore il peso è identico è assolutamente identico però fin da subito vi dico che è maggiormente ergonomico il design del moto x non tanto per una questione di pesi o misure ma per una questione di cover posteriore cover posteriore maggiormente bombata riusciamo ad avere questo tipo di presa più naturale della nostra mano mentre il nexus 5 è più spigoloso soprattutto in questa parte e non c'è la bombatura qua quindi risulterà leggermente più scomodo da portare e utilizzare per più tempo sono entrambi due smartphone estremamente comodi da usare con due mani con una mano il moto x è più comodo in senso assoluto passiamo adesso ad altri aspetti allora l'aspetto riguardante la disposizione dei pulsanti come potete vedere sono praticamente identici pur avendo il bilanciere del volume a sinistra il nexus 5 e a destra il moto x per il resto poche sorprese non abbiamo batteria rimovibile l'altoparlante di sistema ha posto in posizioni diverse ma per il resto sono entrambi molto simili andiamo adesso a scoprire altri aspetti più interessanti come il display display che è una delle peculiarità che andiamo a vedere principalmente su questi dispositivi mettiamo subito luminosità massima in entrambi ok luminosità massima in entrambi proviamo a mettere un'immagine in comune su google in modo da avere ad avere un riscontro simile e vediamo qual è il più luminoso immagini terra immagini terra scusate non so cosa ho scritto ok fortunatamente abbastanza intelligente immagini direi di scaricare un'abbastanza luminosa come la seconda seconda vediamola in entrambi i casi allora potete subito vedere non ve la sto ad allargare perché vogliamo più che altro vedere la luminosità il display IPS dell'LG Nexus 5 è estremamente più luminoso veramente tanto ma tanto più luminoso mentre il display del Moto X risulta essere più fedele nei neri molto più fedele nei neri come potete vedere il contrasto è insuperabile non per niente qua ci troviamo di fronte ad un IPS IPS tra i pannelli tipi di tecnologia più luminoso in circolazione mentre il Moto X dispone invece di un pannello AMOLED pannelli AMOLED che appunto ci consentono di avere dei neri molto più neri altro aspetto intanto interrompiamo un attimo gli aggiornamenti per non compromettere la prova intanto sempre parlando di display vi devo comunque dire che in Nexus 5 il vantaggio seppur minimo è non particolarmente visibile di avere una risoluzione in full HD mentre il Moto X ha una risoluzione in HD ready quindi un bel numero in più di pixel nel Nexus 5 ma essendo un display da 4.7 contro i 5 quasi del Nexus 5 la differenza si vede proprio per un occhio estremamente attento diciamo che a livello commerciale questo fa a livello pratico è difficile notarlo andrei sul drawer hanno entrambi l'ultima versione di Android la 4.4.2 cambia il lancer lancer che sui Nexus è particolare mentre su questo Moto X è molto normale e come potete vedere abbiamo ancora la divisione per widget e applicazioni mentre nel Nexus 5 questo non esiste più allora proviamo adesso ad andare a vedere la fluidità del sistema che vi dico subito è estrema in entrambi i casi è impossibile trovare un lag a livello di sistema operativo andiamo nelle home home page entrambi fluidissime pur avendo una differenza di hardware sostanziale sulla carta è molto più potente il Nexus 5 infatti troviamo un Qualcomm Snapdragon 800 mentre qua uno Snapdragon S4 Pro Plus molto più limitato però il fatto è che comunque la differenza in termini di Android Android estremamente ottimizzato si vede poco dove si vede? si vede un po' nei giochi nei giochi leggermente si vede e a volte anche nella navigazione web proviamo a ritornare nella navigazione andiamo su Nexus Lab scusate sono leggermente allergico in sto periodo quindi mi dovrete sopportare ok allora leggermente come vi dicevo più veloce il Nexus 5 questione prettamente dovuta al fatto dell'hardware leggermente più potente magari anche a livello di ottimizzazione proviamo adesso a cliccare di nuovo su un link anche qui leggermente più veloce il Nexus 5 ma in entrambi i casi come potete vedere le prestazioni sono simili altre differenze allora tastiere tastiere allora identiche in tutti i casi troviamo Android stock però trovo leggermente più sensibile e piacevole la tastiera del Moto X ma proprio a livello di touch proviamo un attimo allora estremamente veloce come avete potuto vedere allora anche il Nexus 5 estremamente veloce ma forse la forma più compatta e altri vantaggi mi fanno preferire leggermente la scrittura di testi sul Moto X andiamo a vedere un altro aspetto un altro aspetto fondamentale che è la parte multimediale parte multimediale andiamo nella nostra galleria album download abbiamo un bel video uguale identico in tutte e due le parti galleria download ok lo facciamo partire sperando insieme entrambi con il video player classico solo una volta vi abbasso il volume a zero in entrambi la prova dell'audio la facciamo dopo ok allora qui stessa evidenza di scusate andate in blocco un attimo la videocamera ripartiamo il video da dove lo stavamo guardando ok allora qualche secondo di differenza ma non è quello che fa che conta per noi quello che conta è vedere la luminosità estrema dell'ips del nexus 5 mentre il contrasto molto più profondo e molto più netto nell'amoled del moto x che dire è veramente veramente è difficile dire quale sia il migliore sotto la luce del sole si legge meglio il nexus 5 è certo che il contrasto del moto x essendo un amoled si vede è veramente senza paragone per un ips andando invece a provare la parte multimediale riferita alla musica apriamo il nostro lettore musicale andiamo aprire play music da una parte andiamo aprire play music anche dall'altra come potete vedere praticamente con questo moto x ci troviamo ad avere la medesima esperienza del nexus 5 quindi a livello di software quindi la differenza è veramente minima andiamo andiamo ora a trovare shakira eccola lì cerchiamo anche qua lo stesso brano non li faccio partire naturalmente insieme avrebbe senso artisti eccoli qua allora vi faccio prima ascoltare il moto x e poi vi faccio sentire il nexus 5 allora questo era il moto x passiamo al nexus 5 passiamo al nexus 5 allora anche in questo caso mi ho fatto ascoltare più di tanto perché è netta la differenza è abissale da questo punto di vista l'altoparlante del nexus 5 ha sempre fatto letteralmente pena e il moto x è uno dei device con la migliore esperienza a livello di altoparlante singolo pur essendo nascosto benissimo straccia da questo punto di vista il nostro nexus 5 questo è un difetto storico dei nexus che purtroppo si porta dietro altra differenza sta nelle piccole funzioni aggiuntive del nexus del moto x che adesso affronteremo in breve ma vi invito a vedere la videorecensione o la recensione perché quelle differenze sono presenti come personalizzazioni di motorola quindi su un nexus non le troviamo ci riferiamo per esempio allo sblocco intelligente come potete vedere adesso il telefono è è spento è bloccato lo vado a prendere già mi si blocca se avessi una notifica già me la consentirebbe di sbloccarla su quella altra differenza è il fatto di poterlo sbloccare con la voce dicendo ok google now è dandogli un comando oppure troviamo assist che ci permette di avere delle differenze a livello di orario di riunione se noi siamo in macchina siamo in una riunione lo stato del telefono cambia con la vibrazione con la lettura dei messaggi in automatico tutto questo è un nexus non lo troviamo altro aspetto che però mi preme più fare a livello di confronto è la fotocamera fotocamera che in questo caso invece è a favore del nexus abbiamo fatto delle foto in condizioni difficili perché sono lì dove si vede se effettivamente una fotocamera è di qualità o meno perché il dettaglio il dettaglio ovviamente essendo un sensore da 10 megapixel quello del moto x e invece quello del nexus 5 da 8 il dettaglio è leggermente a favore del moto x ma il resto no il resto è tutto a favore del nexus 5 allora prendiamo la stessa galleria su entrambi i telefoni fotocamera e prendiamo una medesima foto scattata pochi istanti fa in condizioni di luce scarsa allora questa è la foto con il moto con il nexus 5 estremamente dettagliata luminosa è lì qua non si tratta della luminosità del display ma è proprio luminosa a schermo foto fatta stesse condizioni con il moto x foto più scura meno dettagliata più sporca con più rumore sensore quindi ottica del sensore che cattura poca luce ve lo posso far vedere anche in un altro esempio un po' più palese quello del drago questo è il dragone con il nexus 5 questo è il dragone con il moto x lasciate sperdere se uno è amolo e dell'altro no qua si vede assolutamente una differenza abissale a livello di quantità di luce catturata dalle diverse ottiche che dire questo è più o meno tutto a livello di ricezione meglio moto x moto x come telefono si comporta meglio a livello di batteria più o meno siamo uguali arriviamo a fatica con entrambi a fine serata non sono due mostri di durata di batteria forse leggermente avvantaggiato il moto x perché ha una batteria più o meno complementare ma meno pixel da gestire quindi dura leggermente di più un'oretta un'oretta e mezza proprio il limite ma siamo lì potenza brutta sul nexus 5 più rifinito il moto x su diversi aspetti ci stupisce un po' il fatto della fotocamera fotocamera in effetti un po' sottotono che dire prezzi ormai identici 300-350 euro per il moto x 300-350 euro per il nexus 5 qua quindi è puro gusto personale puro comfort estetica purtroppo non abbiamo il moto maker quindi il moto x lo dovete tenere così che non è assolutamente brutto per carità quindi la scelta aspetta a voi questi sono i pro e contro di un nexus rispetto a un moto x soprattutto a livello hardware livello software sono quasi identici tranne quelle poche funzioni gestite dal processore aggiuntivo motorola proprietario che troviamo all'interno del moto x che non possono essere replicate su nessun altro dispositivo se avete delle domande o su youtube ma preferirmente sul sito vi risponderemo prima vi risponderò immediatamente un saluto da Alessandro per Nexus Lab